Vi ricordo che oggi l'abbiamo appena sentito Paolo Andreucci, Paolo Andreucci sarà al vostro fianco perché grazie anche a questo ragione dovete avvicinarvi a fare l'assaggio della ciabatta paulesana perché hanno paura perché quelli che ci sono piastati qua davanti potrebbero spazzolare tutto quanto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.